19 marzo, festa del papà. C'è chi ha usato anche questa occasione per fare polemica contro le famiglie arcobaleno, per dire che ci sono dei papà di serie A e dei papà di serie B. È curioso ricordare che oggi è San Giuseppe che è il simbolo, è l'icona della paternità. Peccato che San Giuseppe non fosse il papà biologico di suo figlio, fosse un papà sociale, un papà d'amore, un papà d'anima, un papà spirituale. Io non so se San Giuseppe è tra i riferimenti del cristianesimo esibito della destra. Vedendo le polemiche attuali direi che più erode è un riferimento per questa destra. Chiedetelo al ministro San Giuliano e comunque bando a quelli che mettono volgarità anche in un giorno come questo. Auguri, auguri a tutti i papà del mondo.